Il ristorante La Gardela offre i piatti della cucina romagnola ed emiliana accompagnati da una vasta carta di vini e grappe. Ristorante La Gardela A pochi passi dalla Basilica di San Vitale e dal Mausoleo di Galla Placidia, il ristorante La Gardela offre i piatti della cucina romagnola ed emiliana accompagnati da una vasta carta di vini e grappe. Ambiente accogliente e climatizzato, aperto a pranzo e a cena. Venite a provare la nostra cucina casalinga a Ravenna in via Ponte Marino 3, telefono 0544 21 57 14, fax 0544 24 60 98. Grazie. Grazie.